A Rezzo è la terza provincia con il dato più alto in Toscana per le primarie PD che hanno visto trionfare Matteo Renzi. La percentuale del capoluogo Aretino, 81,4%, è superata soltanto da Pistoia e Prato, entrambe assestate, sull'83,4%. Persino Firenze resta dietro di un punto all'80,3%. In generale la Toscana segna i dati più alti d'Italia e si conferma feudo dell'ex premier. In provincia di Arezzo ci sono punte che vanno oltre il 90% come a Rigutino. Un risultato importante che premia l'organizzazione di coloro che sono impegnati per favorire il corretto svolgimento delle primarie ma soprattutto premia il Partito Democratico che domenica, grazie a centinaia volontari, ha consentito a tante persone di potersi esprimere democraticamente e oggi forse è l'unico partito che riesce ancora ad organizzare momenti di partecipazione come questo. C'è una dimostrazione non solo di affetto ma anche di credere nelle politiche riformiste che avevano riguardato l'ultima parte della legislatura guidata da Matteo Renzi ma soprattutto sono forse anche una richiesta di andare avanti su quel percorso che si è bruscamente interrotto. Sarà un percorso fatto spero di coinvolgimento di un partito, il Partito Democratico che ha centinaia di iscritti ma anche di coinvolgimento di tutte le parti sociali, le forze economiche, tutti coloro che in qualche modo si rivedono in una svolta riformista che in questo momento spero sia semplicemente sospesa ma che possa presto riprendere da subito anche con una nuova legge elettorale e poi con politiche di sviluppo per questo paese. È stata una bella festa di democrazia per quanto riguarda il Comune di Arezzo, hanno partecipato oltre 4 mila cittadini quindi un ottimo risultato. Poi a livello di mozioni quella di Renzi ha raggiunto l'81, quasi l'82% quindi il risultato è straordinario. Devo dire che abbiamo iniziato già con un lavoro con il referendum, abbiamo continuato con la mozione congressuale di Renzi a sostegno di Renzi e di Martina. Nonostante tutti i problemi che ci sono stati in questa città abbiamo dimostrato comunque che questa città è ancora assolutamente renziana.